4 Mori contro Sardegna Live, si gioca per la settima giornata nel girone 7 del 7-5, è di fatto uno spareggio per il terzo posto. I 4 Mori passano al 19esimo con Nicola Ennas al suo ritorno nella formazione di Luca Melis, non succede nient'altro. Per il primo tempo, secondo tempo che sarà decisamente più frizzantino, i 4 Mori cercano subito il gol 2-0 con Campagnola che ci prova dal limite, Andrea Iba alza sopra la traversa. Al 29esimo minuto in contropiede la compagine di Luca Melis perviene al raddoppio, Nicola Ennas si fa tutto il campo prima di concedere la gioia del gol a Gabriele Schinelli che è in fila col mancino dal limite dell'area di rigore. Al 31esimo doppietta personale per Nicola Ennas che non sbaglia dal centro dell'area di rigore. Al 37esimo gara ormai chiusa a segno anche Antonello Porcedo, indovinate un po' su Assis Dicchi ovviamente di Nicola Ennas. Al 38esimo riduce le distanze la formazione in maglia viola con patron Roberto Graziano. Da quest'altra parte il quinto gol dei 4 Mori lo firma Samir Murgia al 41esimo. Roberto Graziano per la doppietta personale al 42esimo, al 44esimo doppietta personale anche per Gabriele Schinelli. Siamo sul 6 a 2. L'ultimo sussulto ce l'ha ancora Roberto Graziano che firma la tripletta personale. Per lui dodicesimo gol in stagione finale dal Family 4 Mori 6 Sardine Alive 3. Grazie a tutti.